Gli esseri umani trattano gli animali con crudeltà, per questo nella fattoria del signor Jones gli animali hanno deciso di ribellarsi e mettere fini alla tirannia dell'uomo. Chi cammina su due gambe è un nemico, chi cammina su quattro zampe o alle ali è un amico. L'unione è d'obbligo e i maiali Napoleone e Palla di Neve si ergono a capo degli animali per combattere lo sfruttamento e la schiavitù. Il padrone va cacciato, la libertà vale più di qualsiasi mangime e così ora gli animali sono liberi di vivere a modo loro. Non dipendono più dall'uomo, ora c'è la repubblica degli animali. Ma le ideologie dei due maiali non sono uguali e portano allo scontro interno. Finte uguaglianze, scontri ideologici e tradimenti in questa versione graphic novel del classico romanzo di George Orwell, un dramma politico-sociale che parla di dittatura in modo leggero ma che fa riflettere. L'ho adorato e ve lo consiglio.